. News Temptation Island. Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaella Giudice, e la tentatrice Teresa Langella sotto le coperte. . Hanno destato molto scalpore a Temptation Island le lacrime di Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaella Giudice, per la tentatrice Teresa Langella. Ma ad attirare la curiosità dei telespettatori è stato soprattutto l'intimità che si è creata tra i due sotto le coperte. Durante una serata in compagnia, Andrea e Teresa, sdraiati sullo stesso divano e avvolti da una bianca coperta, si sono tenuti la mano e si sono lasciati andare a languide e appassionate occhiate. . Una scena che ha distrutto Raffaella, e che ha stuzzicato il pubblico. È successo qualcosa di più tra il personal trainer e la cantante neomelodica? Almeno fino alla terza puntata del programma No. La stessa Teresa ha seccamente smentito le insinuazioni dei fan su Instagram, chiedendo che le persone si sono fatte dei veri e propri film sulla vicenda. . Le parole di Teresa Langella su Andrea Celentano.Mi chiedo, ma l'immaginazione della gente è fino a dove può arrivare? Diesis menti malate, ha scritto Teresa Langella su Instagram. . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha provato a conquistare Leonardo Greco e Andrea Angelini, ha dunque smentito tutte le voci che girano da ore sui social network. . . Neppure una parola è invece arrivata da Andrea Celentano. In questi giorni il 24enne si sta godendo il sole, e il mare insieme agli amici più cari. . Ma dopo tentation Island Andrea e Raffaella stanno ancora insieme. A quanto pare sì e l'indizio più grande è arrivato ancora una volta da Instagram. . Andrea e Raffaella di Temptation Island non si sono lasciati.Al contrario di altre coppie di Temptation Island, Andrea Celentano e Raffaella Giudice continuano a seguirsi su Instagram. Molto probabilmente la giovane ha perdonato il fidanzato per via del suo comportamento, e ha deciso di andare avanti con questa relazione nata più di sette anni fa. . . . . . . . .